Sono abbastanza buone, siamo conosciuti, siamo riusciti a trovare una buona amalgama per questo. Vediamo poi le prossime partite che saranno più impiegative e come ci comporteremo. Penso che abbiamo lavorato molto bene, per fortuna anche il tempo ci ha aiutato e è stato un bel ritiro. Sì, speriamo che questo sia il modo di giocare di quest'anno perché abbiamo visto che comunque con un playmaker come Mike riesce a spingere tanto il pallone come Michele, sì, si può correre tanto e tenendo alto il ritmo cerchiamo di fare anche più punti. Questo ritiro aiutano a queste cose, ci conosciamo meglio, poi insomma siamo tutti gente abbastanza esperta che ha già giocato insieme in set l'anno scorso, quelli che sono arrivati, tutta gente esperta che si sa adattare al gruppo per questo non ci sono stati ancora nessun problema.